Aria di rinnovamento per la canottieripallanza. Dopo le difficoltà degli ultimi anni, con la società che ha anche rischiato la cessazione delle attività, una parte del Consiglio è infatti intervenuta in modo drastico per dare nuova linfa alla storica associazione sportiva. Tra i cambiamenti nell'assetto dirigenziale spicca la figura del nuovo presidente Walter Pedretti, ormai da anni parte del Consiglio direttivo. Ma quali sono in definitiva le linee guida di questo nuovo progetto? Le linee guida sono di rinnovarla completamente, cercare di cambiare ritmo, fare in modo che i ragazzi vengano, siano ben seguiti, siano tutelati bene e che possano fare sport in serenità e con la possibilità di raggiungere certi risultati più in alto possibile. E nel concreto quali sono le operazioni di rinnovamento che si stanno portando avanti? Prima di tutto abbiamo sistemato un po', dobbiamo sistemare un po' gli interni, mettere a posto puntile e così via. Dopodiché faremo un bel programma con le scuole per far conoscere questo sport, andando nelle scuole con i remergometri oppure invitando le scuole, le classi qua da noi per fare delle prove in barca. E quindi avremo bisogno, dovremo acquistare delle barche adatte per le propedeutiche per poter uscire in sicurezza e in maniera tale che i ragazzi imparino a remare. Nonostante le circostanze avverse, i risultati ottenuti lo scorso anno sono comunque significativi, soprattutto per quanto riguarda l'attività master. La nostra società l'anno scorso è stata molto performante con la squadra master perché abbiamo conquistato quattro titoli campionati italiani in diverse specialità e quindi siamo molto soddisfatti. Con i giovani abbiamo fatto dei discreti risultati nelle regate regionali e contiamo di quest'anno poter incrementare anche la loro presenza seguendo le orme dei master che sono sempre un'ottima guida per i giovani che intraprendono questo sport. Grazie. Grazie. Grazie.